È stata pubblicata dalla casa editrice bresciana Morcellana la copia anastatica del Fuoco d'Amore di Frato Maso d'Aolera che sarà beatificato il 21 settembre nel Duomo di Bergamo. È proprio la sua espressione mistica, la sua riflessione di incontro con Dio che diventa presentazione dell'amore come fuoco di Dio che è misericordioso, che infiamma, un cuore infinito di Dio. Un libro che ha mosso tanti santi nella storia e non possiamo dimenticare che Papa Giovanni quando muore ha sul comodino proprio questo testo Il Fuoco d'Amore di Tommaso d'Aolera. La pubblicazione in 750 pagine dà una forma nuova alla seconda edizione del Fuoco d'Amore edito nel 1683 a Napoli ed è stata voluta da Luciana Previtali Radici. La pubblicazione è una copia anastatica di un testo che è stato stampato nel 1600 e riporta il pensiero di questo frate. La pubblicazione è un'iniziativa della parrocchia di Olera, del centro studi Frato Maso e della vice postulazione della causa di canonizzazione. Con la stessa facilità di andare di casa in casa va anche di anima in anima e la sua vita di per sé è molto umile. L'iniziativa è stata patrocinata dall'amministrazione comunale di Alzano Lombardo. Il primo atto di quello che sarà un 2013 intenso per l'amministrazione comunale di Alzano Lombardo per quanto riguarda la beatificazione di Frato Maso e di Olera. Siamo orgogliosi ovviamente. Ho avuto il privilegio di essere presente alla ricognizione il 17 marzo dei resti del Beato Frato Maso. Posso dire che sono stato orgoglioso e onorato di rappresentare la valle. Dobbiamente onorato e orgoglioso questa sera, visto che la signora Luciana Radici ha deciso di patrocinare questa pubblicazione.